Ciao ragazzi, la season attuale di Rainbow sta giungendo al termine e come di consueto sono qui per parlarvi e mostrarvi tutte le novità che troveremo nella prossima season che si chiamerà Crystal Guard. Anche in questa season come di consueto troviamo un nuovo operatore o meglio una nuova operatrice d'attacco che si chiamerà Osa dove ha uno scudo antiproiettile trasparente che può essere tenuto in mano o posizionato su pavimenti e infissi. È un'operatrice 2 di vita, 2 di velocità, 2 di difficoltà, super media. La sua dotazione sarà un fucile d'assalto 556 che è quello lì che possiamo trovare anche sul termite e poi il PDW-9 come mitraglietta. Come arma secondaria la pistola PMM, mentre come gadget granata fumogena e claymore. A 27 anni, nata in Croazia, 1,80x71 kg. Se qualcuno vuole leggersi anche tutto il background può mettere in pausa il video ragazzi e leggersi tutto il rapporto psicologico, tutto quanto. Io adesso non mi metto qua a leggervi assolutamente nulla di tutte queste cose, l'addestramento, esperienza, le note. Esiste il tasto pausa ragazzi se siete interessati. Quindi io direi di cimentarmi immediatamente a testare la nuova operatrice perché oltre a lei hanno messo mano anche al FUZ, a Twitch ed ad IQ. E hanno un po' reworkato la mappa Banca, Clubhouse e Costa. Iniziamo subito dalla mappa che non esce mai in ranked possiamo dire chiaramente sto scherzando perché si gioca sempre e solo Clubhouse con IQ in quanto questa nuova operatrice ha il suo gadget ragazzi che ora può individuare e pingare tutti quanti gadget dei difensori. Qui abbiamo una nuova via per riuscire a passare dietro, se qualcuno di voi aveva paura nel passare tra i cancelli ragazzi, nel cancello più che altro. Adesso c'è la via dietro, in pratica sì ragazzi. IQ adesso con questo visore, vede la batteria del bandit, la vede ma poi la pinga proprio di rosso per tutta la squadra. Dopodiché in questa mappa Clubhouse hanno introdotto una porta, quindi si può girare avanti e indietro. Hanno cambiato il bomb site del primo piano, l'hanno completamente eliminato e ne hanno messi due nuovi e basta di Clubhouse. Per quanto riguarda Costa invece andiamo con la nuova operatrice Osa che ha 110 di vita e ha due gadget nuovi, ovvero ha due di questi scudi devastanti dove chiaramente si può andare in piedi o accucciati ma non si può correre. Le novità invece di Costline sono che adesso c'è qui una mega finestra ragazzi, potete andare avanti, chiaramente se vi alzate vi spara i piedi, vedete mira già i piedi e vi colpiscono ma se state così immobili raga siete pressoché invincibili. Siete veramente meglio di un montagne. Chiaramente la fortuna è sempre al mio fianco e il file dove andavo ad utilizzare lo scudo si è corrotto ma comunque al mio fianco vi metterò delle immagini per farvi capire il suo utilizzo. Questi due scudi possono essere piazzati ovunque, nei corridoi, sulle porte, sulle finestre, sia gli attaccanti che i difensori possono vedere attraverso. Questi scudi sono antiproiettile ma possono essere distrutti con le granate a impatto, con i C4, con gli esplosivi. In più gli attaccanti possono detonare una mini carica per far distruggere lo scudo, ovvero lo stesso dispositivo che ha il vetro di mira. Anche in questo scudo, essendo che è trasparente e quindi si può vedere attraverso, se li tirate una coltellata si crepa tutto e quindi non vedete più attraverso. Questo nuovo gadget è veramente una rivoluzione perché in attacco abbiamo la possibilità di utilizzare due scudi. Un'altra modifica è stata effettuata al pergolato perché adesso ha tutta questa lastra di metallo dove non puoi assolutamente sparare attraverso. Qui c'è la classica finestra ma hanno introdotto un'altra finestra da questa parte, dopodiché hanno completamente eliminato le inferiate che c'erano in questa finestra, l'hanno completamente bloccata e le inferiate della finestra di sotto le hanno tolte e adesso questa qui è una finestra dove potete chiaramente barricare o lasciare tutto aperto. Hanno cambiato in pratica queste cose qui ma non è tutto perché questa modifica qui ragazzi non so se farà piacere a molti di voi in quanto come potete vedere in mezzo alla ringhiera hanno tutto quanto bloccato. Quindi stare da questa parte quando lì c'è il plant e tenere adesso non è più possibile ragazzi, dovete proprio stare fuori con la testolina e non proprio così nascosti. Un'altra novità veramente importante è data da questo muro perché c'è la porta ma non c'è più il finestrone e c'è il mega muro ragazzi dove anche questo qui bisognerà o rinforzarlo o vedere di fare qualche tecnico tattica devastante. Qui poi hanno in vip cambiato tutto quanto ragazzi si può girare attorno a questa zona qui quindi bisognerà stare molto attenti qua al buco dei droni e come ultima mappa e come ultimo operatore ci troviamo su banca con il fuse che ora ha 125 di vita. Qui abbiamo un passaggio completamente nuovo per andare dietro al vicolo dove qui ragazzi le persone facevano sempre spawn kill e invece adesso ci sono tutte queste recinzioni blu. Qua è già tutto aperto ma che siamo matti? Cos'è un party qua? Guardate recinzioni che ci sono anti spawn kill veramente gigantesco. Hanno bloccato la possibilità di sparare dai lucernari da questa posizione così le persone se vogliono uscire dalla porta qua sotto grande possono farlo per così dire indisturbati. Stessa identica cosa ragazzi anche per questi lucernari e la cosa veramente gigantesca è questa qui ovvero se tu avevi il glazza o avevi un operatore colacog ti mettevi qua su queste finestre e sparavi alla gente. Adesso non puoi più ci sono soltanto queste finestre aperte per tre quarti dove tu puoi prendere qui la mira ma è diventato molto molto più difficile. Un'altra novità è qui nell'ascensore con la botola sopra tutto il marmo qua sotto qui non c'è più la predisposizione per vedere al piano di sotto ragazzi dove qua buttavi i droni e tutto il resto. La grande poi novità è qua sotto vediamo di far fuori un po' di persone perché qui non ci sono più le sbarre anche qui ragazzi guardate tutto aperto tutto libero. Qua c'è altra gente qui guardate i soldi dove c'è l'oro raga tutto quanto mega libero dove andiamo da questa raga anche qui zero sbarre tutto quanto cambiato è veramente una cosa incredibile. E guardate qua 3 2 1 boom una stanza gigantesca boom guardate server come è cambiato guardate l'angolino qui che ti metti giusto giusto lo scudino e non passa più nessuno. Hanno completamente tutto spostato guardate qui manca tutta una parte del server qui non ci si può più nascondere muri rinforzati ragazzi alleluia si mette boom prima di partire vedete fa tutta questa cosa qui tipo una roba isotermica se si dice così ragazzi c'è un po' di delay così i difensori sanno che da quella parte arriva il fuse però potete fuzzare ovunque. Ditemi un po' cosa ne pensate come vi sembrano tutte quante queste novità attenzione qui c'è una porta nuova fermi tutti questa guarda che roba puoi passare anche da questa al posto che sempre in quella lì spettacolo mi stavo dimenticando di twitch anche se qui non c'è la parte di dronaggio ragazzi vi lancio immediatamente i droni di twitch perché la cosa interessante è come sparano sentite? Non è niente niente male. Un'altra novità sarà per gli operatori elite finora le skin riguardanti questi operatori elite erano soltanto bloccate dovevi soltanto utilizzare quelle adesso invece puoi mescolare tutto quanto quindi se ti piace un copricapo di qualcos'altro lo puoi mettere sulla skin elite e ugualmente avrai tutta quanta l'esultanza. E parlando sempre di elite il nuovo elite che vedremo riguarderà lion e sarà a tema resident evil. Altre novità non mi pare ce ne siano se me le sono dimenticate ragazzi non preoccupatevi le vedremo insieme in live sul canale twitch quando saranno aperti a tutti i tts. Ditevi un po' cosa ne pensate di tutte quante queste news spero che il video sia stato utile di vostro gradimento vi sia piaciuto ragazzi quindi qua da Bistard è tutto e noi come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao